e bene carissimi amici ancora ben ritrovati insieme con me qui sul mio canale youtube una buona serata a tutti voi oggi venerdì 19 di gennaio giornata d'estrazione ma io vi porto ancora il terno il terno il terno il terno secco il terno secco vinto dai miei software ancora un fantastico terno secco che arriva dai miei programmi la super spia 10 un software che ogni volta che esce il numero 10 su qualsiasi ruota si va ad elaborare la previsione composta dall'estratto i quattro ambi e due abbinamenti per il terno al secondo colpo di gioco previsione elaborata il 13 di gennaio Cagliari Firenze c'era il 58 è uscito l'ambo secco 58 e 4 a Firenze con il terno secco si abbina il 26 58 4 a 26 sulla ruota di Firenze un altro terno secco dai miei software la super spia 10 è uno di quei programmi che ha 5 6 anni sulle spalle è qualcosa di incredibile che un programma presentato anni fa ad oggi paga i terni a ruota e questo non è un caso eh non è un caso io ve ne posso portare quante ne volete cari amici ve ne posso portare quante ne volete guardate sempre il software 2 58 10 a dicembre guardate Napoli primo colpo vi ho fatto vedere il 2 quante vincite ha pagato qui ho tutte le ultime vincite dei software i terni guardate i terno secco da danni il 5 terno secco dal tutti per uno terno secco da 1.500 terno secco mister numeretto terno secco al primo colpo software 3 a dicembre 2023 non 50 anni fa eh spia mestosa ambo secco a colpo spia mestosa terno secco al quarto colpo ad ottobre 23 dammi il 5 ancora terno 18 novembre 23 guardate quante vincite il tuo vi ho fatto vedere il tuo ancora 89 21 guardate quante vincite si sono ottenute cari amici la spia suprema terno secco agosto 23 quante vincite si sono ottenute cari amici questo è l'ultimo terno di una lunga serie se seguite è chiaro che noi che ci mettiamo a giocare tutti i software sarebbe da follia ma voi se prendete un programma e lo seguite con costanza andate a raccogliere i frutti io vi porto solo le vincite più eclatanti ma i miei software danno una valanga di vincite di estratti e terminati ambi in terzini ambi secchi terni e ma sono programmi che c'è tanti di voi ne ha acquistati cinque anni fa e ad oggi si ritrovano programmi che danno i terni a ruota che danno gli ambi a colpo questa è stata un'altra grande vincita cari amici vincita reale vera e documentata scritta nero su bianco che il software elabora prima non dopo 13 gennaio 2024 provisione elaborata provisione vinta in due colpi terno al secondo colpo di gioco quindi contattatemi via whatsapp per chi fosse interessato al singolo software oppure faccio un bel pacchetto dei dieci software potenti in grandissima promozione 348 75 47 715 contattatemi via whatsapp per chi fosse interessato ai miei software sono prodotti da non perdere cari amici perché voi li acquistate una volta e vi valgono per sempre si acquistano una volta soltanto e valgono a vita io gli algoritmi alla base non li ho mai cambiati sono sempre quelli e i fatti mi danno ragione perché escono i terni cari amici non le ambate le ambate neanche le conto di quante ne vinco i terni e questi software non giocano per ambetto eh io l'ambetto neanche lo considero perché qui si gioca per ambo ambata terno e basta ambata amboterno il gioco più bello il gioco dell'otto è quello ambata amboterno quindi mi raccomando a non perdere i miei programmi per adesso un saluto a tutti i mister sbancolotto